L'8179 San Marino dal 1960 al 1995 in blocchi, quartine, è un'accumulazione che purtroppo mi è arrivata così come la vedete, disordinata. E poi sono tutti messi in questa maniera. Io ho riposto tutto qui con la massima cura, io non voglio fare troppa mescolanza perché già purtroppo di mescolanza ne è stata fatta tanta dagli eredi. Data la situazione non sono neanche in grado di dirvi se l'insieme ha annate complete, non ne ho più pallida idea purtroppo. C'è tanta roba, in apparenza potrebbero essere tutte annate complete. Come vedete in blocchi di 4, 5, questo è il tipico, questo è veramente il famoso lotto divertimento dove chi vuole passarsi il tempo qui hai voglia di tempo che ha da passarsi. Mi spiace non potervi far vedere meglio ma la situazione è questa. Comunque i francobolli sono quelli che ho descritto io in catalogo, il periodo è quello. E sono così, sono tutti nuovi, gomma integra. Se volete altri video e informazioni scrivete a filateliakiocciolaquattrobaiocchi.com